Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Il caso Ferragni, a dispetto di chi prevedeva un rapido esaurimento dello scandalo, si sta rivelando un autentico terremoto per l'impero della celebre influencer. Le nostre fonti avevano anticipato che questo scandalo avrebbe segnato una svolta critica, con conseguenze irreparabili sull'immagine di Chiara Ferragni e del suo entourage. Il fulcro di questo turbamento è una seria inchiesta giudiziaria per truffa aggravata, un'accusa così pesante da suggerire quasi certamente una condanna con patteggiamento. L'indagine, gestita dal rinomato studio legale Bodio di Milano, sembra ormai avvolgere la Ferragni in una rete sempre più stretta. Il processo, tuttavia, non riguarda solo la Ferragni. Si è infatti esteso a coinvolgere quasi cinque aziende, tutte implicate nella promozione dell'immagine legata alla beneficenza per ottenere maggiori profitti. E come se non bastasse, è emersa un'ulteriore complicazione. Il manager Fabio Maria D'Amato è stato recentemente indagato. Anche se l'indagine su un cliente, Franco Cannillo di Dolci Preziosi, potrebbe sembrare marginale, la situazione potrebbe aggravarsi ulteriormente se la procura di Milano decidesse di indagare altre figure vicine alla Ferragni, come la madre, la sorella o suo marito Fedez. In questo scenario si profila l'ipotesi di un'accusa ancora più grave, quella di associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata. Questo reato, ben più serio di una semplice truffa, prevede una pena che varia dai 3 ai 7 anni di reclusione, elevando il rischio a un livello allarmante per tutto l'entourage della Ferragni. La posta in gioco è alta, e le conseguenze potrebbero essere devastanti per l'intero gruppo che orbita attorno alla figura di Chiara Ferragni. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.